Eccoci qua, eccoci qua per commentare quella che è stata la conferenza stampa di vigilia e di presentazione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Io ho letto alcune cose che ha detto Gasperini, non ho ascoltato la conferenza, me la recupererò così domani mattina potrò portarvi anche alcune considerazioni interessanti dato Gasperini. Ho però appena terminato quella di Danilo e Allegri perché ovviamente per le finali c'è anche un giocatore rappresentativo della Juventus ed è stato scelto il capitano. Prima di tutto volevo ringraziarvi perché oggi abbiamo festeggiato i dieci anni del canale YouTube con una diretta che è stata veramente di altissimo livello dal punto di vista della vostra collaborazione. E quindi mi sono sentito veramente sommerso di affetto, con lo stesso affetto che proveremo a riversare sulla Juventus domani sera in una partita in cui mi sento terribilmente sfavorito. Io non so la vostra sensazione ma io forse ero più ottimista per le finali di Champions con Real Madrid e Barcellona ed è proprio in questa piccola, piccolissima cosa che vado a mettere le mie speranze per domani e cioè la mia incompetenza. Se ero più tranquillo lì e abbiamo perso, ora che sono preoccupato chissà che non si possa vincere. Mi è sembrato di non essere l'unico preoccupato ma poi ne parleremo dentro questo video. Danilo dice vincere darebbe un senso diverso alla stagione, non darebbe senso, sarebbe un senso diverso. Danilo ha pesato le parole eh ragazzi, c'è stata una concentrazione prima di rispondere ogni domanda alla parte di Danilo che voleva cercare di non sbagliare dal punto di vista comunicativo che mi è piaciuta tanto. Abbiamo raggiunto la Champions però poi quello che si porta al museo sono i trofei, quindi consapevolezza del fatto che non è un obiettivo, non è un miracolo, non è qualcosa di assurdo raggiungere la Champions per la Juve. Alla Juve bisogna portare i trofei al museo. Sarebbe un premio per la resilienza del lavoro di squadra e quotidiano. Danilo è spesso legato alla parola resilienza, l'ha utilizzata tante volte anche all'interno di questa conferenza stampa e ci fa capire bene che cosa ha in testa lui e come sta vivendo questo momento. E penso che sia un momento che proverà a condividere e a far passare alla squadra. Bisognerà vedere quanti riusciranno a percepire e a captare questa cosa qua perché la Juventus è un momento disastroso. Io sto bene, ho avuto un problemino fisico, mi ho recuperato bene, è talmente importante che il corpo ascolta quello che succede intorno. Ecco io spero che Danilo stia davvero bene perché se non è al 100% si rischia veramente di avere un cambio in meno, di dover fare delle modifiche in corso d'opera e se non stai bene con l'Atalanta è una squadra che fisicamente va veramente a distruggerti. Mi sento emozionato. Nel calcio nella vita va guardato in avanti e non quanto successo. Sono nuove sfide ed obiettivi. Per me sarà speciale e diversa. È quello che possiamo raggiungere. Sarebbe bello mettere un pezzo di storia piccolo all'interno della storia della Juve. Quindi Danilo sottolinea quanto sì la Copitalia sia importante ma rispetto alla storia della Juve sia qualcosa di minuscolo e guarda avanti. Non vuole guardare indietro. Dice quello che abbiamo fatto, che potevamo fare, non c'entra più niente. Adesso dobbiamo fare questa roba qui. Ed è una cosa che condivido assolutamente perché tante volte noi guardiamo tanto indietro quando bisognerebbe guardare semplicemente al presente per cercare di favorire il futuro. L'Atalanta sta facendo una stagione importante. Giocatori forti, allenatore esperto. Va rispettata. Dal 2012 la Juventus ha giocato circa 20 finali e la storia va rispettata. Ok il focus su quanto stiamo facendo adesso ma la Juve è una squadra sempre pronta a vincere. Non ci sentiamo meno forti di loro. È una finale e può succedere di tutto. Danilo dice sì, d'accordo. Voglio guardare al momento però è anche vero che la Juve è una squadra storica. Ecco io questo credo che conti poco invece nella partita di domani e per poco intendo zero. Credo che non sia assolutamente un argomento di dibattito perché in campo ci vanno 22 giocatori. 11 contro 11 più le sostituzioni orchestrate dirette dagli allenatori. Quindi ho molta 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 paura però mi fa piacere che il rappresentante dei giocatori, quindi il capitano in questo caso, dica non ci sentiamo meno forti di loro. Questa è una cosa molto molto importante. Poi arriveremo anche a discutere del passaggio successivo. Un messaggio per me stesso e per la squadra è questo. Non sappiamo mai quando sarà la prossima finale. È uno stadio particolare, un'atmosfera calda. Ho giocato tante finali. Dobbiamo pensare che potrebbe non capitarci più. Metteremo tutto quello che abbiamo in campo. Anche queste belle parole e soprattutto mi sono piaciute quelle relative al non sappiamo quando sarà la prossima finale. Se andate a rivedervi i video dei festeggiamenti della partita proprio con l'Atalanta, Coppa Italia con l'Atalanta vinta da Pirlo, dico proprio questa cosa. Dico godiamoci questo trofeo, questo trionfo, perché chissà poi quando ci ricapiterà di festeggiare un nuovo trofeo. Da allora non abbiamo più vinto niente. Quindi è stato un passaggio che mi è piaciuto tanto. Quello di Danilo, tra l'altro Danilo, vado a memoria, ma una Coppa Italia in finale l'anno di Sarri, la persa, perché questa sarà la quarta finale di Coppa Italia di Danilo, una vinta con Pirlo, una persa con Sarri, una persa con Allegri, più questa. Una finale di Coppa Italia da Danilo l'ha persa, ai rigori con il Napoli di Gattuso sbagliando il calcio di rigore. Non so se vi ricordate questo dettaglio, ecco. Era un altro Danilo, era un'altra Juve. Vedremo un attimino cosa succederà domani. L'ultima finale con l'Atalanta era un momento difficile, lo stadio mezzo vuoto per via del Covid. Dobbiamo goderci a maggior ragione a questo momento. Ci saranno le famiglie, ma anche i dirigenti della Juve. Siamo cambiati tanto da quella finale. Sono andati via il calciatore ed è arrivato il mister. Non è cambiata la voglia di vincere, di sudare e dare tutto per la maglia. Io questi concetti non li sto vedendo negli ultimi tre mesi. Domani sera sarebbe bene ritirarli fuori, perché so che questa squadra ce li ha, li ha fatti vedere. Però temo che non sia un on-off. Non credo che le motivazioni, le speranze, tutto si attivino come per magia. Non funziona così. Guardare troppo avanti è difficile. Possiamo solo promettere di lasciare tutto in campo domani. Poi vogliamo giocare altre finali, ma non possiamo sapere quando. Nella mia vita ho una caratteristica umana, e ancora cita, la resilienza. La Juve la possiede in tutti quelli che indossano questa maglia. In questa squadra c'è la capacità di andare giù e rialzarsi. E vedremo se saranno resilienti proprio a partire da domani sera. Sapevo chi si sarebbe parato il giurone d'andata. Non c'è un motivo, una cosa concreta. Siamo crati con punti e vittorie. Io mi aspetto che questo ci sia di insegnamento anche per l'anno prossimo. Vincere la Serie A significa non mollare di un centimetro. Non puoi avere un momento un po' più deconcentrato. E quindi Danilo ammette che era mancata concentrazione. Però questo non è un momento. Ribadisco, cioè questo è il punto focale del discorso. Non si tratta di un paio di partite fatte male. Si sta parlando di tre mesi, tre mesi da ritmo retrocessione. E questa è la cosa veramente grave che mi fa preoccupare, per non essere scurrile, preoccupare tantissimo in vista di domani. Il gruppo sta bene. Il risultato con la salernità non era quello che ci aspettavamo. Però giocare una partita così bella e importante ci deve dare motivazione e soddisfazione. Siamo sereni con responsabilità e consapevolezza di domani. E poi gli chiedono come sarebbe la valutazione alla stagione della Juventus vincendo la Coppa Italia. E qui Danilo fa un grosso respiro e cerca proprio di pesare le parole come meglio può. E parte con una frase che mi ha fatto girare le scatole. E cioè, a inizio anno ci hanno chiesto di raggiungere la Champions League e provare a vincere la Coppa Italia. E già lì ero alterato, perché questo è un concetto che ormai io non posso più ascoltare. Sono veramente stanco di ascoltare questa roba. Però Danilo poi ha corretto il tiro e ha detto Certo che abbiamo avuto alti e bassi, dove non siamo riusciti a raggiungere risultati importanti. I traguardi raggiunti però permettono ai dirigenti di fare una programmazione importante e ambiziosa. È quello che lasceremo l'anno prossimo. Non ha detto sono soddisfatto, non ha detto era giusto così, non ha detto era l'obiettivo principale. Ha detto questo è quello che ci hanno chiesto. Abbiamo avuto alti e bassi, non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare. Almeno ai dirigenti lasciamo la possibilità di programmare come si deve. Quindi si è corretto tanto il tiro, secondo me. È stata una risposta che tutto sommato ci può stare. Atalanta squadra fisica, ritmo alto con e senza palla. Se in campo non stai bene ci possono mettere in difficoltà. Ed è proprio quello che dicevo prima sulle condizioni di Danilo. Dobbiamo essere a pari loro e sfruttare le occasioni che avremo. In finale deve essere letale. Questo è un concetto secondo me che ha espresso anche Gasperini da quanto ho letto. Però ripeto, domani ne parliamo con un po' più di calma. De Ketelar è l'esempio di un calciatore che in un ambiente giusto gioca diversamente. Sta facendo un anno importante. Sono un fan di calcio e amo questo. Tecnicamente è bello da vedere e difficile da marcare. Sono motivato, l'ho studiato, ho guardato tante partite dell'Atalanta. Spero che in campo possa stare tranquillo e sereno. Mi è piaciuto il fatto che Danilo abbia sottolineato che guarda tante partite dell'Atalanta. È necessario per cercare di capire come affrontare i nostri avversari. E secondo me l'Atalanta è una squadra che ha sorpreso tanto Danilo in questi anni italiani. Quindi domani servirà veramente il miglior Danilo perché dall'altra parte l'Atalanta, anche senza scamacca, ha un attacco veramente favoloso. Un attacco informissima che sta continuando a segnare gol su gol. Penso che tutto il mio vissuto nel calcio mi abbia preparato per arrivare alla Juventus e essere il capitano. Sarebbe un traguardo per la mia storia. Sicuramente sono qui da cinque stagioni e mi ritengo juventino e lo sarò per sempre. La Juve sarà sempre la squadra più importante della mia carriera. Queste sono state parole che, devo dire la verità, mi fanno sorridere. Perché sono le parole che il tifoso vuole sentirsi dire. Lo crede, non lo crede. Questo è un altro discorso. Secondo me Danilo lo crede. Però sono le parole che da tifoso voglio sentire. E Danilo non ha paura a dirle. È un professionista. Potrebbe prendere altre strade da qui alla fine della sua carriera, anche se è un giocatore che, ai noi dico, Dani, perché adesso sono 91, sono 92, si sta andando verso una parte conclusiva di quelli che sono gli altissimi livelli. Si entra nella fase calante. Però Danilo ha fatto bene a dirlo perché probabilmente questa cosa la sente come. E poi passiamo ad Allegri che dice Arriviamo bene, speriamo di arrivare meglio domani. Raggiunto l'obiettivo Champions con due giornate d'anticipo abbiamo una finale a giocare. Sembra quasi che abbiamo fatto l'impresa a raggiungere la Champions con due giornate d'anticipo. Loro stanno facendo bene e complimenti anche per la finale d'Europa League. È una partita complicata, ma lo sapevamo anche prima. Domani non sarà tecnica o tattica. Servirà disponibilità in campo e vincere i duelli. Ci saranno momenti difficili e andranno affrontati. Serve controbattere il migliore dei modi. Quindi una partita più reattiva che proattiva. Questo è quello che si aspetta Allegri. Una partita in cui ci si preoccupa principalmente di arginare, quello che sarà l'impeto dell'Atalanta, e poi muoversi di conseguenza. Le finali sono sempre 50%. Devi essere bravo a portare l'episodio da tua parte. Con loro le partite non finiscono mai. Sul discorso degli episodi in finale sono abbastanza d'accordo. Che siano 50% o per niente. Per niente. Per me domani l'Atalanta è nettamente favorita. Nettamente favorita rispetto alla Juventus. Poi proprio perché una finale può succedere di tutto, ma 50% non è vero. Non esiste. Real Madrid-Borussia Dortmund di finale di Champions non sarà 50%. Atalanta-Bayer-Levra Cusa non sarà 50%. Ce ne sono tanti esempi che possiamo tirare fuori. 50% è una visione ottimistica, è una visione che ci può stare per dare forza all'ambiente, ma non la vedo così. Per esperienza il calcio è meraviglioso perché può roversiarsi una partita o una stagione. Affrontiamo una squadra forte che tutti danno per favorita, ma dobbiamo essere bravi perché domani può essere per tutti l'ultima finale, come giustamente ha detto il capitano. Non è detto che la Juventus ognuno di noi potrà giocare altre finali a breve. Serve a mettere tutto in campo con lucidità, serenità e concretezza. E qui, se ce ne fosse mai stato bisogno, Allegri secondo me spoilerà, perché Allegri qui spoilerà, il fatto che l'anno prossimo non sarà più la Juventus. Questo credo sia stato veramente un messaggio lanciato da Allegri, messagina Badol, ha lanciato questo messaggio all'interno del mare dell'informazione, della controinformazione, ha lanciato il messaggio di dire l'anno prossimo non sarò qui. Poi non so se la giocherà la Juve, non so se la giocheremo noi, ognuno di noi, altre finali, però Allegri mi ha dato veramente la sensazione di essere all'ultima possibilità che ha di alzare un trofeo con la Juventus. Vedremo se domani sera la squadra ci riuscirà oppure no. Hans Nicolussi di Caviglia sta bene, come tutti. Devo decidere in mezzo al posto di Loca e sugli esterni. La partita può essere lunga o da supplementare. Domani mattina deciderò. C'è un ballottaggio, perché se oggi si parlava di Miretti, anche ieri sera si parlava di Miretti, oggi si parla di Nicolussi. Vedremo domani mattina con il video appunto a mezzogiorno dove andranno a sciogliere un po' di più i ballottaggi, che cosa succederà. L'obiettivo principale, ecco, qui invece mi sono girata le palle. Perché già quando Danilo aveva toccato l'argomento mi ero un po' acceso, c'era un po' di fumino nero che veniva. Però dopo ha corretto il tiro, ecco, la risposta di Allegri invece è proprio una risposta, perdonatemi, una risposta strafottente. È una risposta della serie ma come vi permettete di criticarmi, guardate che abbiamo fatto benissimo per quello che potevamo fare, per quelle che erano le richieste. L'obiettivo principale, che a tutti può non piacere, che a tanti può non piacere, era che la Juventus partecipasse alla Champions League. Obiettivo che è sempre a piccolo, ma ci sono momenti nella vita dove se non puoi vincere devi dare un tesoro, un tesoretto alla società. Domani nella finale è un evento, se lo vinci festeggi, se lo perdi devi portarti dietro nei bocconi amari per due o tre giorni. E partecipare agli eventi che non è da tutti, i ragazzi hanno conquistato questa finale, se saremo bravi e fortunati la porteremo a casa. L'obiettivo principale di Juventus e società era qualificarsi alla Champions. Tra l'altro Allegri tante volte ha sottolineato come uno degli obiettivi fosse qualificarsi alla finale di Coppa Italia, neanche vincerla. Quando parla di evento, del fatto che ci siamo qualificati ed è tutto bello, ecco, io non solo ho immaginato un Allegri che se ne andrà, ma anche un Allegri che pensa di perderla questa finale e che cerca di passare il messaggio che comunque partecipare è già qualcosa. No. No. Partecipare a una finale di Coppa Italia non è qualcosa se ti chiami Juventus. non lo è. Anche perché lo sappiamo tutti, la Coppa Italia è quella coppa che se la vinci va bene, ok, hai fatto il tuo, se la perdi tiro del culo. E qua voglio essere invece un po' più scurrile. Quindi no, non è vero che partecipare è già qualcosa, è già un risultato, puoi dire risultato, anticipo un po'. Questa cosa non è vera. E sul discorso della Champions, il fatto che quello fosse l'obiettivo non significa che non si potesse migliorare, a maggior ragione dopo un girone d'andata come quello che è stato fatto. Poi gli chiede Andy Cobb Mainers e Allegri dice l'Atalanta è un parco attaccanti importanti come il nostro. Poi vive un momento di euforia ed entusiasmo, serve una partita alla finale e le partite alla finale sono sempre diverse. Noi ci sentiamo in grado di giocare la finale con grande rispetto dell'Atalanta. Le partite vanno vinte sul campo. In un attimo ti si può rovesciare tutto il calcio. Dobbiamo riportarlo dalla nostra parte e serve la convinzione di portare a casa la Coppa. Ha un peso importante essere qui a giocare è già un risultato e dovremo essere bravi a portarlo a casa. Abbiamo la possibilità di vincere che è un altro risultato importante. No, giocare una finale di Coppa Italia non è un risultato. Mi dispiace. Non è come dire gioco una finale di Champions League. Giocare una finale di Coppa Italia che sono due partite in casa secche contro delle squadre di bassissima classifica più in una gara andata e ritorno non è un risultato giocare una finale di Coppa Italia. Vincere una Coppa Italia è un risultato è un trofeo è un titolo. Giocare una finale di Coppa Italia se ti chiami Juventus non è e non potrà mai essere un risultato e se diventa un risultato significa che sei veramente convertito assolutamente alla mediocrità e questo non deve accadere quindi bisogna combattere con forza questo messaggio di dire che è un risultato giocare una finale di Coppa Italia perché se no abbiamo assistito a tutto l'anno a questa comunicazione del dobbiamo arrivare in Champions la società ha chiesto di arrivare nelle prime quattro questo è l'obiettivo e bla 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 e ci siamo adeguati all'obiettivo siamo arrivati a dire eccolo ci hanno chiesto questo lo facciamo facciamo questo perché siamo questi no non deve succedere questo la comunicazione è importantissima per cercare di migliorarsi in queste cose qui se passiamo il messaggio che giocare una finale di Coppa Italia è un risultato allora domani sera la perdiamo 100% che è già molto probabile ma non è 100% perché poi c'è la partita e va giocata sul campo ma per avere la possibilità di vincere bisogna rendersi conto che no giocare una finale di Coppa Italia non è un risultato a maggior ragione se ti chiami Juventus questa cosa proprio non esiste per me nel mondo non può esistere dipende dall'attendamento della partita ci vorrà molto attenzione i dettagli faranno la differenza siamo una squadra forte quando mettiamo in campo l'attenzione giusta siamo difficili da affrontare in questo momento l'Atalanta è straordinaria poi quando ha preso il 2-1 con la Roma è cambiata la partita fino al fisco finale dobbiamo rimanere in partita con testa di equilibrio sì poi però l'Atalanta ha comunque vinto la partita ha rischiato di fare altri gol anche il 2-1 della Roma il 2-1 della Roma è un rigore che nemmeno c'è non mi sembra proprio l'esempio perfetto Atalanta-Roma per descrivere il fatto che l'Atalanta ha dei problemi guarda proprio per niente era molto più probabile che finisse 7-0 piuttosto che 2-2 ecco questa è un po' la lettura poi sì dopo il gol di Pellegrini su rigore l'Atalanta si è un po' scoperta questo è un dato rifatto ma ribadisco poi l'Atalanta comunque poteva segnare anche il gol del 3-1 se Copmeiner e Luckman non fanno quella roba là segnero anche il 3-1 e chiudono la gara e poi Allegri dice sono ancora un bambino quando ho la fortuna di giocare alle finali che mi hanno portato i miei calciatori vivo con grande entusiasmo domani metteremo tutto per portare a casa la coppa da perdere abbiamo sia noi che loro così come da vincere l'Atalanta merita i complementi per il lavoro negli anni mantenendo un livello crescendo la cosa più difficile è il mantenimento e il miglioramento merito di società e Gasperini in realtà è importante il calcio italiano ed europeo aggiungo anche merito dei calciatori perché merito di Gasperini nella società assolutamente sì però ci sono stati dei calciatori che veramente hanno fatto la differenza uno su tutti che voglio citare su tutti come simbolo veramente dell'Atalanta di questi anni è Martin Deron quello è veramente il simbolo di quello che è stato l'Atalanta del movimento Atalanta del miglioramento Atalanta della meritocrazia del lavoro Martin Deron che è il capitano dell'Atalanta che domani andiamo ad affrontare signori queste sono state le parole di Danilo Allegri quando Allegri parla dell'attenzione che questa squadra può avere quando si mette in campo ed è difficile poi ad affrontare mi porta un ragionamento e cioè che domani sera se dobbiamo prendere una partita standard di riferimento sarà la trasferta Bergamo con l'Atalanta e se andiamo a inserirla all'interno dalla lettura che vi ho fatto e cioè che Allegri comunque non è che sia proprio così sicuro di vincere la Coppa Italia anzi perché sennò non parlerebbe di risultato raggiungerla finale perché se mi vuoi passare il messaggio che è un risultato raggiungerla finale è perché se anche perdi e pensi di perderla non ti si potrà dire nulla perché è già un risultato arrivare a giocarla questa roba non esiste questo insieme delle due cose mi fa pensare che sarà una Juventus con compiti solamente difensivi quindi la partita è esattamente come a Bergamo dove è stato fatto lo 0-0 per cercare di andare ai calci di rigore era un'altra Atalanta era un'altra Juventus se questo è il piano gara secondo me siamo spacciati lo vedremo domani ciao a tutti ragazzi forza Juventus grazie a tutti